Sei un nominato, tu sei un nominato, tu sei quel coglione di lei, grazie di che cosa, tu spingi alla gente, tu provo, lei prova, lei dice che sono stati votati, non siete stati votati, avete fatto le primarie del PD e li abbiamo votati. Il Presidente sempre, quale referendum, quale appunto, è per la Costituzione non che se ne va, ha detto non se ne va, è per la Costituzione, state cambiando la Costituzione e la gente torna, avete ragione perché la gente torna, il giorno che la gente... Lei vada a votare, mi raccomando, lei vada a votare, non stia a casa. Tu stai tranquillo per quello che devo fare io, tu penso a te, tu pensi al tuo figlio, che siete già sotto sotto, siete dei lati e vi comprate la strada, vi siete presentati a Napoli con la camorra, avete appoggiato le piedi e andiamo a letto. Grazie, vergogna, 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 possiamo credere che siamo tutti stupiti, andiamo a votare, e si vota per te è uno stronzo, chiedete gli stronzi se votate per te. Abbiamo diventati, sono diventati tanti re, voi siete tanti re, altro che buono sia.